Innanzitutto un saluto a tutti e a tutti, vorrei anche aggiungere, e non è una frase di circostanza, che sono molto contento di essere qui anche per avere l'opportunità di sentire Donatella di Cesaris che non conosco personalmente ma di cui conosco gli iscritti e soprattutto per rivedere i da domini gli anni che è un po' di tempo che non ci vedevamo e questo mi fa molto piacere. Grazie Andrea. Non tralascio Davide Grasso ovviamente ma noi ci conosciamo già e non vorrei... A parte questo che comunque sono qualcosa di sentito che volevo comunicare, credo che per analizzare la situazione in cui ci troviamo dobbiamo fare uno sforzo per evitare di entrare in un ambito, in un limbo di confusione perché tante sono le sfaccettature e tante sono gli aspetti che la situazione bellica in corso porta alla ribalta. C'è una stratificazione di diversi livelli, io cercherò di occuparmene solo di uno parzialmente senza dimenticare che dietro questo ci sono tutta una serie di altri aspetti, Donatella ne ha appena sviluppato uno che magari mi è utile poi ricordare alla fine del mio intervento. Allora io credo che uno dei trionfi nonché dei lasciti del pensiero neoliberista sia stato quello di porre le questioni economiche al centro dell'analisi politica, sociale e giuridica del nostro tempo. Il ridurre tutto al mercato e alle sue presunte leggi e a tutto il corollario che ci sta dietro è stata la chiave di volta con cui si è stato in grado di condizionare il pensiero politico, il pensiero giuridico e in buona parte lo vediamo oggi il pensiero anche filosofico da un certo punto di vista fino a diventare una forma egemonica. Questo lo dico perché credo che una di queste stratificazioni di analisi della situazione attuale sia quella di porre l'accento su un'analisi più geoeconomica che geopolitica. Noi siamo abituati a pensare gli eventi bellici come conflitti fra aree territoriali, conflitti tra interessi politici, tra ideologie, tra vari aspetti e quindi riferiti essenzialmente al piano analitico-politico. Io credo che negli ultimi vent'anni tutti i conflitti bellici che ci sono succeduti negli ultimi vent'anni, giusto per fare un intervallo di tempo, probabilmente molto di più, diciamo dall'89 in poi, maggior parte delle tensioni belliche, conflittuali hanno avuto una natura più geoeconomica che geopolitica. E qui da questo punto di vista credo che bisogna dire un paio di cose. Primo questo è l'effetto del processo cosiddetto volgarmente di globalizzazione, ma è anche, aspetto meno sottolineato, l'effetto di un processo di finanzializzazione e di nuova regolazione delle forme di pagamento internazionale e del ruolo crescente e sempre più pervasivo e centrale che hanno i mercati finanziari nel definire i processi di valorizzazione, di accumulazione, di crescita e di distribuzione del reddito. Tutti questi elementi sono all'interno del nuovo ruolo assunto dei mercati finanziari. Parlo dei mercati finanziari perché questo è esattamente un esempio, non è l'unico, potremmo vedere la cosa da altre perspettive, ma non abbiamo il tempo, per confermare l'idea che gli aspetti geoeconomici sono più importanti degli aspetti geopolitici. Sicuramente negli ultimi dieci anni noi abbiamo assistito a un declino del potere monetario e finanziario statunitense, in particolare nel ruolo del dollaro come riserva di valuta internazionale con la quale valuta si pagavano la maggior parte delle merci primarie, minerarie, energetiche, agroalimentari del mondo, scambiate sulla borsa di Chicago, sulla borsa di Rotterdam e su altre borse che si esituano non a caso nei paesi dell'Occidente capitalistico. Ma si è perso anche, è venuto meno anche il ruolo del dollaro, soprattutto come valuta di riserva all'interno delle diverse riserve valutari detenute dalle varie banche centrali. Non sto qui a fare una serie di dati, di esempi, perché ci porto lontano. Parte dei paesi, penso l'Arabia Saudita, non pagano più il petrolio in dollari. Parte delle riserve valutarie, anche dei principali paesi internazionali più potenti, quindi quelle più cospicue, la percentuale di riserve valutari in dollari è calata dall'80% intorno al 50%. Basta dire soltanto che oggi il bitcoin, che è una moneta digitale, una cryptocurrency, entra nelle riserve delle banche centrali per una quota intorno al 15%, che non è proprio poco. Quindi siamo di fronte, prendo questo paradigma della dinamica dei rapporti finanziari come esempio di riferimento, anche perché è quella meno analizzata, come spia di un cambiamento e una ridefinizione degli assetti gerarchici a livello globale. È una spia del fatto che l'unipolarismo americano centrato sul dollaro ormai sta sempre più perdendo terreno. Non è un caso che una decina di anni fa durante un G20 la Cina aveva fatto una proposta abbastanza provocatoria, ma molto innovativa, cioè quella di creare un pacchetto di cinque valuti internazionali, fra cui il dollaro, l'euro, credo che ci fosse anche il rubro, lo yen e ovviamente la moneta cinese, per creare, fare con una media ponderata e con pesi diversi a seconda dell'importanza delle singole valute, creare una moneta di riferimento internazionale che andasse oltre il sovranismo monetario. Ovviamente questa proposta fatta dall'alloro ministro dell'economia cinese è stata presa come uno scherzo, soprattutto dagli americani e dalla finanza statunitense. Ma io credo che dietro questa situazione bellica si nasconda anche un conflitto di tipo diverso che va oltre l'aspetto puramente bellico, puramente umanitario e anche puramente dell'economia reale, se posso dirlo. Su questo magari ci torneremo dopo. È interessante notare che la prima sanzione che è stata combinata contro la Russia è stato il blocco delle riserve valutari della Banca Centrale Russa detenute all'estero. L'ammontare delle valute della riserve valutari della Banca Centrale Russa erano circa 600 miliardi in dollari. Sono state bloccate quasi il 50%, cioè 300 miliardi, che è una cifra abbastanza considerevole. L'obiettivo era duplice, quello di mettere in difficoltà fonti di finanziamento dello sforzo bellico in seguito all'invasione russa, togliere liquidità quindi dell'economia russa, ma soprattutto l'obiettivo era quello di innescare un processo di svalutazione del rublo a cui seguisse un processo inflattivo nell'economia russa che avesse delle conseguenze pesanti sulla crescita e sulla dinamica della congiuntura economica russa. E in effetti, se noi andiamo a vedere i dati e la dinamica dei tassi di cambio rublo-euro e rublo-dollaro, nelle prime due settimane successive a questa sanzione, il rublo è passato in euro da 80 rubli per un euro a circa 150 rubli per un euro. C'è una svalutazione quasi del 100%, una cosa che avrebbe, su un'economia di un certo peso, come la Russia, avrebbe ammazzato chiunque. c'è stata una reazione però da parte delle autorità economiche e delle autorità monetarie russe che è stata considerata una ritorsione nei confronti dei paesi occidentali invece che una doverosa risposta dal mio punto di vista dai semplice e tristanzuore economista, ovvero che la Russia ha chiesto che i pagamenti del gas e del petrolio venissero versati su un conto corrente creato ad hoc presso la Gazprom Bank in euro e in dollari ma in maniera tale che questo conto corrente potesse cambiare questi dollari e questi euro che entravano quindi senza modificare i tipi di contratti in essere con i paesi che compravano le materie prime ma essere cambiati il rublo di cui tre quarti andavano a rimpinguare parte delle riserve valutare della banca centrale russa ai fini di difendere le quotazioni del rublo. La mossa ha avuto pieno successo. Oggi se andate a vedere sul Sole249 in tv o su qualsiasi sito finanziario la quotazione del rublo ci vogliono 59 euro per un rublo ben inferiore agli 80 euro gli 80 rubli per un euro che era la quotazione prima del 24 febbraio. Questo è una spia. Questo significa che l'uso della forza della finanziaria e questa manovra insieme a quello di bloccare lo SWIFT dei conti SWIFT dei principali banchi russi un banchiere un noto banchiere tedesco l'ha definita un'arma nucleare per dire come questo tipo di attacco possa avere ripercussioni meno visibili ma molto più pesanti e pervasivi di quanto può essere un attacco direttamente bellico che fa morti, feriti, sangue lo sappiamo benissimo e Donatella prima ce ne parlava. Però questo è stato un attacco che non è riuscito e perché non è riuscito? Perché è stata la spia che ha dimostrato che oramai siamo in un cambio di governance finanziaria che ormai è irreversibile che è cominciato ben prima dagli eventi di cui stiamo discutendo e che mette in moto l'idea della necessità di un nuovo accordo di una nuova governance finanziaria internazionale sarebbe illusorio e ingenuo pensare di fare una nuova Bretton Woods nel 44 un accordo monetario sui paesi capitalistici e di orbita sovietica venuta dopo la seconda guerra mondiale in un contesto come sappiamo io mi auguro che non sia bisogno di arrivare agli effetti della seconda guerra mondiale in seguito a quello che sta avvenendo tra Russia e Ucraina perché sennò saremmo veramente in una situazione drammatica ma sicuramente ci sono tutti gli elementi per ripensare un nuovo riassetto delle ridefinizioni geofinanziarie a livello globale questo è un aspetto che dobbiamo tenere conto perché questo è un elemento che conta nelle decisioni strategiche credo che questo elemento di recuperare il ruolo del dollaro che era stato in parte anche in maniera un po' suicida ridotto dalle politiche protezionistiche di Trump che adesso Biden vuole recuperare nella dinamica opposta sia anche uno dei motivi per cui è necessario che questa guerra non termini immediatamente ma abbia possa andare avanti per mettere in moto e questo è il secondo punto che voglio trattare spero di avere tre minuti alcuni effetti di carattere più propriamente economico e meno finanziario riguarda questo punto noi abbiamo sicuramente e lo sappiamo perché la storia ce lo insegna che qualunque situazione bellica mette in moto un processo direbbe Max di accumulazione originaria ricostruisce le premesse per nuove forme di profittabilità questo interessa molto l'economia USA non interessa affatto anzi il controproducente per l'economia europea e qui c'è un divario che gli europei o almeno l'establishment europeo dovrebbe tenere conto per non fare la fine del top e per non fare l'utile idiota ma questo è un discorso diverso riguarda l'autonomia dell'Europa rispetto alle politiche statunitense le politiche della Nato per recuperare un ruolo non soltanto all'interno della diplomazia internazionale e della crisi del diritto internazionale ma un ruolo economico in grado di incidere su quelle che sono le mutuazioni di rapporti di forza internazionale anche nei confronti dello spettatore che ci guarda molto potente che è la Cina ma al di là di questo e qui si aprirebbe un altro livello di analisi è chiaro che questa guerra mette in moto un processo di forte aumento della domanda di ripresa economica negli Stati Uniti fa riportare in auge quello che negli anni 60 viene chiamato l'apparato militare industriale che oggi non ha le stesse forme fordiste tangibili degli anni 60 ma mette in moto processi di sperimentazione sul capitalismo delle piattaforme che è la nuova forma organizzativa del capitalismo intangibile e relazionale io lo chiamo biocognitivo di oggi che si sta ristrutturando in questa cosa già la sindemia aveva favorito questo processo con lo sviluppo delle piattaforme l'e-commerce e tutto il corollario che c'è stato dietro questa oltre situazione attraverso tutte le tecnologie legate alla puntistica alla comunicazione al controllo eccetera eccetera si aggiungono ulteriormente per dare linfa e petrolio allo sviluppo di settori che oggi sono di punta per l'economia soprattutto americana soprattutto americana secondo l'occidente ma anche per l'economia cinese e lasciano prezagire che poi alla fine i due contendenti saranno questi l'Europa fa le spese e ne fa le spese per quanto riguarda gli effetti che oggi misuriamo essenzialmente sull'aumento dei prezzi mi dico due parole su questo anche soltanto questo aspetto richiederebbe molto più tempo e molto più approfondimento possiamo dire soltanto che l'aumento dei prezzi non è il prezzi delle materie prime e poi a domino anche di tutta una serie di altre merci non è la causa non è causato dalla guerra mi ricordo questa immagine negli anni settanta si diceva la grande infrazione degli anni settanta è colpa dell'aumento del petrolio quando il petrolio aumenta di tre volte in seguito alla guerra dei sei giorni del settantatre no? no è falso questa affermazione è una fake news direbbe oggi l'aumento dei prezzi ha origini ben diverse era già in atto prima dell'aumento del prezzo del petrolio era la crisi del modello tellurista della grande impresa di tutta una serie di altri fattori che adesso non abbiamo il tempo per ricordare l'aumento del prezzo del petrolio è la goccia che ha fatto traboccare il vaso però non bisogna guardare la goccia bisogna capire perché il vaso era già pieno e il vaso dell'inflazione era già su una strada di aumento dei prezzi per una serie di storture disfunzioni di tutta la forma organizzativa del capitalismo della piattaforma cioè la forma nuova che è iniziata a svilupparsi intorno agli anni 2020 la crisi della logistica l'aumento dei costi dei trasporti la difficoltà e la complessità di gestione alcuni algoritmi non propriamente funzionanti perché ancora in fase sperimentale nella gestione sia della comunicazione sia delle merci fisiche che subivano un processo di overcrowd di eccesso di merci che non riuscivano essere smaltite e oggi la misura del valore di una merce non è il costo di produzione o almeno non è più come lo era una volta la misura del prezzo di una merce è il tempo necessario per produrla e soprattutto per mistarla se questo tempo aumenta si scarica sui prezzi finali questo è l'elemento più importante che crea una spirale inflattiva di cui poi l'aumento delle materie prime favorite anche da aspetti speculativi eccetera eccetera ha dato poi del suo vorrei ricordare che oggi l'Italia paga il gas russo anche se è stato ridotto negli ultimi giorni allo stesso prezzo e con gli stessi contratti che sono stati fissati due anni fa quindi il prezzo che la Snam la Saipen e tutto il ciclo della raffinazione per arrivare poi all'utilizzo finale ai mercati finali non è 135 dollari al megovattora che è il prezzo attuale che riguarderà e andrà in pattira sulle future commesse e quindi mette in botto aspettative speculative crescenti eccetera ma è quello fissato su contratti che lo stesso Putin quando ha fatto l'accordo ha fatto l'incontro vi ricordate quell'incontro con alcuni industriali italiani che era stato molto criticato aveva fissato attraverso determinate modalità che sono ancora quelle in essere perché pacta servanda sunte dicevano i latini i contratti vanno rispettati quindi questo per dire che ci sono delle cose è un'inflazione spesso io la chiamerei più da inflazione da profitti perché si approfitta della situazione per caricare sui prezzi costi che sono magari un po' aumentati ma non nella misura in cui sono aumentati i prezzi l'effetto qual è questo di mettere in moto processi di ristrutturazione perdita di potere d'acquisto del lavoro effetti di specializzazione produttiva finalizzati a chi ha delle strutture organizzative far fuori parte del sistema delle piccole imprese o parte del settore produttivo che non è in grado di reggere a queste condizioni e favorire forme di intervento statuale di supporto che sulla vecchia logica del divide ed impera ottiene anche una capacità di consenso politico nel futuro sono tutti ognuno di queste ultime frasi richiederebbe un approfondimento perché lette così sembra uno slogan me ne rendo conto perfettamente ma questo è comunque questo per dirvi la complessità di tutti i quadri ma io mi fermo qui per il momento perché è in grado di essere Grazie a tutti